Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. A ottenere qualche cosa, qualche cosa che non abbiamo ottenuto finora purtroppo, perché poi possiamo fare tutte le strette di mano che vogliamo, possiamo andare d'accordo con la Wunderlein, possiamo andare d'accordo con tutta l'Europa che ci pare, ma quello che otteniamo per adesso sono promesse abbastanza vuote, per cui mi sembra anche legittimo che una forza politica che peraltro non ha mai nascosto le sue posizioni stia criticamente, si ponga criticamente nei confronti dell'Europa. Non ci vedo niente di male, tra l'altro poi.